Artemis che mi dici di Laura in questo stato? Costa! Costa e mangiata! Laura sei costa? Come una cotoletta! Una cotoletta come la fettina! Esattamente! Roberta come sta Laura? Benissimo! Alla bestaiera! Alla bestaiera? Laura com'è la posizione? Vai Laura alla bestaiera! Che cazzo è la bestaiera? Laura come? La bestaiera! Eh la eh! No! Che cazzo è la bestaiera? Artemis una parola Dicaci bestaiera! Sellino da... Bicicletta senza sellino Bicicletta senza sellino? Alla matizia bicicletta senza sellino Eh! Ti vengo solo a dire che io mi disposto da tutto quello Io mi disposto da tutto quello Ma che cazzo è la bestaiera? Ma che cazzo è la bestaiera? Ma che cazzo è la bestaiera? Io lo faccio! Brava! 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 Attenis ma domani youtuber? Buola! Brava! E vuoi vengono? Che vuoi vengono? Il caos di arte è la bestaiera! Ciao maluccia! Ciao bella! Ma stavi riparto! Vieni meno! grazie 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 grazie